Amici di Milan.soccer, buongiorno e benvenuti a Terrazza Milan, il giorno dopo Porto Milan. Abbiamo voluto intitolare questo video, non sapremo mai la verità, e sono tre le verità che non sapremo mai, ora ve le elenco. Prima di iniziare però vi chiedo di mettere un like a questo video e di iscrivervi al canale, spero stamattina di indovinarci, credo sia qui la manina, iscriviti, è gratuito. Se era di qua, ma credo che sia di qua, se è gratuito, è tutto gratuito qui, l'unica cosa che non è gratuita è l'arrabbiatura di ieri sera, perché la pagheremo e la sconteremo con mal di pancia vari. Ieri sera il Milan purtroppo è stato battuto 1-0 dal Porto. Quali sono le verità che ci mancano? Beh, la verità che ci manca è come sarebbe andata se avessimo avuto tutti i titolari. Quella squadra che abbiamo schierato ha perso 1-0 e questo ci lascia il secondo a mare in bocca, perché la seconda verità che non sapremo mai è perché questi arbitri. Perché anche ieri, al di là del fatto che il Porto abbia giocato meglio, abbia meritato la vittoria, non sapremo mai perché 3 su 3, con errori arbitrali. Liverpool clamoroso, questo altrettanto importante, perché ci mandano questi arbitri. Io una mia teoria ce l'ho, adesso le affrontiamo queste tematiche. La terza verità, anche con una rosa completa. Quanto siamo distanti dal mondo Champions, dal mondo Europa, da certe squadre. Beh, andiamo per ordine. Se ci fossero stati tutti i titolari, come sarebbe andata? Guardate. Guardate. Datarusano, in fondo, non ha dovuto fare parate clamorose. Quello che doveva fare l'ha fatto. È lì. 6. Calabria. Io ho una particolare stima verso Calabria. Quello però che non riesco a vedere bene quando arriva in Champions, si perde. Corre, corre tantissimo, ha cambiato ruoli, è stato veramente un leader, è stato veramente un capitano, ma... 5. Poi abbiamo avuto Kier sufficiente, Tomori, non so cosa sia successo ieri, ma l'idea che mi sono fatto è che lì, a Verona, Romagnoli, non ha visto... cioè, ha sbagliato completamente la partita. Tomori ha sbagliato completamente la partita, perché al fianco hanno Balloture, non si può andare in Champions con Balloture, ma poi alla fine, tutti quanti, andiamo in Champions, andiamo in Champions. Non possiamo fare certe figure in Champions. La UEFA ci tratta come straccioni, come l'ultima squadretta sotto allo Sheriff. Sheriff, o Sheriff, che dir si voglia. Perché? Non lo so. La mia teoria è che lì nulla mi riporta. Il Paris Saint Germain perdeva, poi ha beccato due rigori. A me nulla mi riporta. Io ho le mie teorie, ma... Qui alcune sono dicibili, altre me le tengo per me, perché altrimenti chiudono il canale e chiudono a me da qualche parte. Ma sono abbastanza sotto gli occhi di tutti. Siete troppo intelligenti per non aver capito quali sono le teorie, in vista soprattutto del prossimo mondiale e della location dove si terrà il prossimo mondiale. Ma al di là di questo, noi abbiamo avuto tre arbitri imbarazzanti. Ma torniamo a noi, non prendiamo le scuse. Torniamo alla squadra. La squadra ha giocato malissimo. 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 Giro, quando prendi la palla, se fai da boa, è inutile che ti rimbalza e va a quattro metri, così loro riprendono e ripartono. Se fai da boa, oppure lasciala andare. Non può essere ogni rinvio del portiere dove tu fai da boa, che ti rimbalza sul petto e tu lanci un attaccante. Secondo, io non vedo la cazzimma, come diceva De Laurentiis. Cioè, questi arrivavano in tre, in quattro su ogni pallone. La forma fisica è diversa. Sì, sì, è vero. E quello è il problema. Che la forma fisica è diversa. Ha ragione anche Ibra. Tanta gente è scesa per la prima volta in Champions. Tanta gente è scesa perché doveva scendere. Baccaio Co. Balloturè e Calolù non sono da Milan, non sono da Champions. Sono delle riserve che metti quando in un Milan Benevento vuoi far riposare Teo o vuoi far riposare Calabria. Poi abbiamo Salema Kerr, l'unico che in qualche modo ha cercato di arrabbattare qualcosa. Leao, venti minuti, poi scomparso come un tempo. Male. 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 Ma, come dicevo, la verità che non sapremo mai è se sarebbe potuto accadere qualcosa di più e di meglio con l'undici titolare, Magnan Treporti, Calabria a destra, Teo a sinistra, Tomori e Chi era al centro. E poi, che sì, Benasser, che sì, Tonali. Tonali, Benasser. Anche ieri Benasser e Krunic. Sì, qualcuno mi scriveva. Sono solo io che vedo Krunic. Krunic, ieri niente, ma niente tutta la squadra. E poi, davanti Giraud, non puoi aspettare solo i cross. Cioè, ieri facevano sottolineare come l'importanza dell'attaccante in una trasmissione sportiva è quella di ritornare sempre. Giraud è lì, aspetta. Finché aspetta Ibra, va bene, ma se ce l'abbiamo un altro che aspetta, cosa aspettate? Non lo so, sono un po' demoralizzato. Quanto siamo lontani dagli altri della Champions? Per me, in questo momento, tanto. Allora il video di ieri, ora penso che qualcuno l'abbia capito. Questa non ci voleva, perché adesso paghiamo pure Bologna. Non nel risultato, nella fatica, nella fatica muscolare, nel fiato. Noi abbiamo una competizione nelle gambe e nella testa, e soprattutto nel modo di giocare, che è la Serie A. Se vogliamo andare a fare, oltretutto, figure di un certo tipo in Europa e rischiare pure che a Bologna, domenica, la impatti, non prendiamo né la fune e né la campana. Comunque, andiamo avanti, andiamo avanti bene, perché domenica c'è il Bologna e bisogna fare qualcosa. Questo sì, perché in questo momento bisogna recuperare i giocatori, tutti, il più possibile. Bisogna giocare le ultime tre partite da Milan per evitare quel numero zero che non ci meritiamo e soprattutto, caro Paolo, bisogna capire che cosa sta succedendo all'interno della UEFA, perché è sotto gli occhi di tutti, anche di chi spesso e volentieri ci ha attaccati, che quel numero zero chiama qualcosa di più, ma non è tanto il due, il tre, l'uno. E il fatto che noi in questo momento non contiamo nulla all'interno del mondo UEFA. Dice che Boban ci vuole bene. Ah Boban, ah Boban. C'è fatta una causa... Vabbè, vi saluto dicendo tutti che comunque ieri quando siamo scesi in campo qui c'era il numero sette e tutti muti.